Il 2016 non è stato proprio un anno eccezionale, il 2017 anche considerando queste parole insomma le premesse non sono delle migliori. Come sopravvivere, come fare affari in questo mondo sempre più rischioso e incerto a te? Grazie Ilaria, l'obiettivo appunto del percorso che seguiremo in questa prossima mezz'ora è proprio un po' questo, cioè di cercare di fare il punto su quelli che sono gli aspetti chiave di un quadro dei rischi globali che è senz'altro rischioso e incerto. Consentitemi però di aprire una parentesi su un tema che non è nuovo, che è tornato alla ribalta con un'accezione particolarmente negativa e vorrei partire anche in termini di andare a sfatare quelli che sono due miti. Un primo mito, la globalizzazione, una parola nota, usata, forse anche diciamolo, chiaramente abusata. Tutti ovviamente siamo portati a pensare che sia un qualcosa che è accaduto con la fine della guerra fredda alla caduta del muro di Berlino, ma è bene no, non siamo nuovi alla globalizzazione. In questo grafico molto eloquente della Barclays Research viene ricostruito questo indicatore sull'apertura del commercio internazionale dal 1875 in poi, sarò breve, lo prometto. Però sostanzialmente una prima fase di globalizzazione l'abbiamo alla fine dell'Ottocento, con questo indicatore che arriva a un picco del 38,1%, le guerre poi ci portano il protezionismo, una seconda ondata di globalizzazione, fino ad arrivare a quella che oggi viene chiamata una iperglobalizzazione, cioè una globalizzazione in cui questi processi di integrazione dei mercati si intensificano ma hanno un catalizzatore molto importante, vengono amplificati, e cos'è la tecnologia? Mi sembra che la ricerca e l'innovazione tecnologica siano stati ben richiamati negli interventi che mi hanno proceduto. Ebbene, il World Wide Web, l'integrazione dei mercati, la NAF e la WTO nel 2001, la Cina che entra nei mercati, con tutto il bene e il male che questo ovviamente ha confortato gli smartphone. Questo indicatore arriva al 47,2%, in leggera discesa, ma ci rendiamo conto come questo fenomeno di apertura ai mercati internazionali sia particolarmente rilevante e soprattutto non è un fatto degli ultimi 30 anni. Consentitemi di arrivare a quello che è un secondo mito da sfatare. Siamo indubbiamente in una fase di disaffezione a questi processi di integrazione dei mercati, di disaffezione a questa globalizzazione, ma non è nuovo nemmeno questo fenomeno qui, già nel 2002, quindi parliamo di 15 anni fa, Stiglitz, premio Nobel per l'economia, ci parlava della globalizzazione e del suo scontento. L'economist in una copertina che se ve la mettessi senza data sembrerebbe uscita ieri, nel 2005 ci chiedeva se eravamo stanchi della globalizzazione o meno, perché in effetti tocca dire che questi fenomeni di disaffezione non è che nascono così dal nulla. Se questi processi di integrazione dei mercati hanno portato tanti vantaggi, hanno ridotto la povertà, e questo ce lo dicono tanti studi, quasi tutti, se si è ridotta la povertà tra i paesi, non si è ridotta la povertà all'interno dei paesi. Consentitemi questa breve parentesi, questo è quello che ci dice François Bourguignon, capo economista a Banca Mondiale, la globalizzazione della disuguaglianza. Cioè tra i paesi avanzati e i paesi emergenti, i paesi in via di sviluppo, sono diminuite queste disuguaglianze. Il problema è che non sono diminuite all'interno di un paese. Pensate agli Stati Uniti, pensate alla campagna elettorale sostanzialmente di Trump, ma pensate a dei temi reali, veri, che vanno oltre la retorica anche di una campagna elettorale. E benissimo, su questo tema di carattere più generale vorrei innestare tre fattori particolari che diciamo rendono un pochino nebuloso il nostro, un pochino, rendono nebuloso il nostro sostanzialmente panorama dei rischi. E questo non solo da quest'anno, alcuni li ereditiamo dallo scorso anno. Sicuramente è così per questo primo fattore, il fattore del commercio internazionale. Una parola generica, macro, aggregata, in realtà è la domanda, quella che voi sui mercati internazionali, non dico tutti i giorni, ma quasi trovate. E benissimo, vedete negli anni tra il 2000 e il 2007, prima della crisi finanziaria globale, il commercio internazionale, in linea anche con quella che era la crescita delle economie mondiali, cresce al 7,3%. Sappiamo tutti che è successo nei due anni successivi, non lo commentiamo nemmeno, però diversi anni dopo quella crisi, non dico chiusa, però lasciata abbastanza alle spalle, con alcuni ultimi stracci che ci sono. Questo tasso di crescita non si recupera, questa domanda globale continua a crescere, ma non trova più quelle intensità del passato. 3,1% tra il 2008 e il 2015, 1,7% nel 2016. L'anno scorso in particolare è stato un anno di crescita del commercio internazionale, ma in rallentamento. E allora già da diverso tempo ci si interroga, ci sono indubbiamente dei fattori di breve periodo, dei fattori congiunturali, alcuni paesi in recessione, pensiamo al Brasile, pensiamo alla Russia, quando li vogliamo identificare con dei mercati, pensiamo ai paesi ovviamente petroliferi, ma ci sono dei fattori strutturali. Cioè la spiegazione è che gli effetti della crisi dal lato della domanda globale ancora oggi li vediamo e questo contribuisce a una sua minore crescita. In questo quadro però una notizia positiva c'è, abbiamo delle previsioni per il 2017, con tutta l'incertezza che intorno a queste previsioni c'è, però queste previsioni anche nel peggiori dei casi ci dicono che quest'anno sarà meglio dell'anno scorso. Una magra consolazione però una riaccelerazione c'è. Il tema del rallentamento rimane, la forchetta delle previsioni ci dice che quest'anno la domanda globale viaggerà tra un 1,8 e un 3,1%. Alcuni primi dati che sono effettivi dei primi mesi dell'anno ci dicono che l'anno è partito molto bene. La domanda è sarà sostenibile questo passo forse a questi ritmi? No, però sostanzialmente nei mesi a venire dà la domanda qualcosa di positivo oltre che un fattore di rischio in termini posteriori ce lo possiamo aspettare. Benissimo, secondo fattore di rischio e questo è fortemente collegato al rallentamento del commercio internazionale. È chiaro che non è il solo protezionismo che ci spiega questa menore velocità di crescita della domanda, però di sicuro il protezionismo è un fattore. Quando parliamo di protezionismo pensiamo a Trump, pensiamo al 2016, pensiamo magari al discorso della Brexit, a tutti i temi molto recenti. Però guardate, questo è un grafico molto eloquente, sono dei dati di fonte Global Trade Alert. Ci dicono che in realtà dal 2008 in poi, l'anno della crisi, le misure tariffarie non tariffarie, innalzate soprattutto dai paesi del G20, sono aumentate costantemente. Ora se questo in un momento di crisi è normale, ci si difende, ci si difende in modo temporaneo, quando le cose ripartono non è normale. Qual è il primo mercato? Quello degli Stati Uniti, 1084 misure adottate dal 2008 in poi. I paesi G20, i 14 dei paesi del G20 sono quelli che hanno adottato queste misure e ci siamo anche noi, seppure un pochino più indietro ovviamente rispetto alla classifica. Ma non è solo un fatto di quantità, c'è un tema di qualità. Aumentano le misure restrittive e aumentano le barriere non tariffarie, sono quelle più subdole, quelle più nascoste, più difficili da scovare. Lo dico a voi, vi ci confrontate tutti i giorni. Pensate ai certificati sanitari, pensate al local content requirement, se non assemblate il 20% del prodotto nel mercato non lo vendete. Pensate alle autorizzazioni e alle licenze, ai tempi per sdoganare i vostri contene. Ovviamente non ve li elenco tutti, però sono tutti temi con cui immagino siate molto familiar. E un ultimo tema, questo è un po' un last ban on list, lo trattiamo per ultimo tra i tre fattori di rischio, ecco però non è per questo meno importante, anzi forse è questo il rischio un pochino più sottovalutato, il debito. Il debito aumenta costantemente dal 2007, anche negli ultimi anni. Bene, si dice, qual è la novità? In Italia ci conviviamo da una vita, non aumenta nei paesi avanzati, aumenta anche negli emergenti, in quelli che erano i paesi più virtuosi, non aumenta solo per il pubblico gli stati, aumenta per i privati le imprese. Allora cosa vuol dire questo per voi? Se aumenta per l'impresa che è la mia controparte, aumenta la sua tensione finanziaria, il rischio che mi possa fare un mancato pagamento magari aumenta, ed aumenta ovviamente nei mercati in cui io mi trovo a confrontarmi tutti i giorni. Dei numeri, 217 mila miliardi di dollari, il debito 325% del PIL, record storico. E guardate questo accade anche in economie come la Cina. Non vi sto dicendo che ovviamente la Cina farà un'insolvenza domani, questo no. Però la situazione di tensione di alcune società cinesi con anche un incremento del numero dei fallimenti negli ultimi due anni è registrato dalle statistiche per quanto queste possano essere attendibili in un paese come la Cina. Ecco Alessandro, noi prima leggevamo che il protezionismo non è storia degli ultimi mesi, ma possiamo parlare di effetto Trump o meglio di effetto Brexit? È chiaro che questa è un'incognita importante, diciamo con la slide sul protezionismo non è che volevamo glissare su questo tema, una risposta, ma più che una risposta, una nostra view sul tema ve la diamo. Beh qui c'è un punto, un punto che innanzitutto tocca distinguere quella che è la retorica da quello che si farà e abbiamo cercato di farlo in questa prima parte di questa slide, no? Sì, più protezionismo, più misure, America first, ok, ma questo in che cosa si concretizzerà. All'inizio forse erano dazi del 45% in Cina, del 35% in Messico, sì forse, non se ne parla più. È una tassa, la Border Adjustment Tax, dovrebbe essere il programma più ampio di una riforma fiscale negli Stati Uniti, come funziona? I calcoli funzionano, fidatevi, insomma non vi chiedo di riverificarli. Una tassa che sostanzialmente diventa un dazio alle importazioni, un sussidio alle esportazioni, nel breve ovviamente funzionerebbe negli Stati Uniti sul medio-lungo i danni sarebbero soprattutto per loro. Questa dovrebbe far parte di una più ampia riforma fiscale su cui i repubblicani nemmeno sono d'accordo, quindi non ci sarebbe l'appoggio del Congresso. Ecco, dico tutto questo non per non rispondere semplicemente per dire che il quadro è più complesso di quello che poi appare ovviamente dalle notizie, è chiaro che dei provvedimenti verranno presi, però diffidiamo da quelli che sono gli effetti annuncio invece, da quelli che saranno gli effetti veri di provvedimenti che saranno presi. Questo doveva essere uno di quelli più probabili ed è uno di quelli insabbiati. Questo in un mercato dove, ve lo ricordo, insomma la nostra crescita è stata più che soddisfacente in termini di export italiano verso gli Stati Uniti, il terzo mercato nostro dell'export, più di 36 miliardi di esportazioni, più 12%, più 18% mi sembra che questi numeri parlino abbastanza da soli, fino a un 21% nel 2015 con un chiaro effetto domanda e anche diciamo del cambio, diciamocelo ovviamente, il depreciamento del dollaro che ha aiutato, con una brusca frenata d'arresto, il 2,6%, ma è chiaro che non c'è da essere particolarmente contenti di questa frenata, anche se ci sono diciamo delle cautele, delle attenuanti. Qui c'è stato un anno molto convulso per gli Stati Uniti, che ci sono stati mesi in cui l'export è cresciuto tantissimo, mesi in cui è cresciuto poco, questo perché ci sono state delle grandi commesse, soprattutto negli altri mezzi di trasporto, e questa mi sembra una regione abbastanza interessata, questo fenomeno per ovvi motivi, che hanno influenzato su questo. L'anno, per quello che vediamo nei primi due mesi, è partito sicuramente meglio, non ripeteremo ovviamente il 21%, possiamo fare di meglio rispetto al 2016, Trump è sicuramente un'incognita, noi non riteniamo che almeno quest'anno sia un'incognita tale da portare a un segno meno il nostro export verso gli Stati Uniti. Benissimo, passiamo dall'altra parte dell'oceano, arriviamo più vicini a noi, alla Brexit. Ecco, come avrete visto, fare delle ipotesi sulla Brexit, così come su Trump è un esercizio abbastanza difficile, abbiamo appreso appunto ieri o l'altro ieri che l'8 giugno ci saranno appunto queste nuove elezioni, ovviamente non dico che cambia totalmente lo scenario, però è chiaro che notizie di questo tipo che cambiano improvvisamente, alcune ipotesi non ce le fanno cambiare. Beh, che cosa ci aspettiamo ovviamente della Brexit? Innanzitutto è stato avviato un processo negoziale, durerà due anni quest'anno e in parte anche l'anno prossimo, non ci aspettiamo grandi scossoni, se non per il fatto che il tasso di cambio è variato, la domanda potrebbe rallentare e un rallentamento del nostro export verso il Regno Unito ci potrebbe essere. Effetti negativi, però sostanzialmente contenuti, andranno a colpire più alcuni settori dei beni di investimento, la meccanica strumentale, in parte i mezzi di trasporto e tra i beni di consumo più tradizionali del made in Italy, l'agroalimentare. Questo nell'ipotesi in cui possano essere anche sollevati alcuni dazi, ma di nuovo prima del 2019, perlomeno stando a quello che vedremo oggi, non prevediamo grandi scossioni e al 2019 dovremo capire meglio come evolverà il quadro. Ci sarà un accordo di libero scambio? Oppure no? Si andrà sulle regole del WTO? Se sì, questo vorrà dire che i vostri prodotti, a seconda del settore in cui siete, potrebbero subire dazi barriere tariffarie che uscillano tra il 5 e il 15%. Il tutto, ricordando che il Regno Unito è un mercato non tanto ampio quanto gli Stati Uniti, ma lo seguono subito dopo, sono il quarto mercato, 22 miliardi di export negli ultimi sei mesi hanno chiuso con un leggero dato negativo. Benissimo, se questo allora è il panorama, rallentamento del commercio globale, debiti nei paesi emergenti, più protezionismo ovviamente, con le incognite che ci arrivano da Trump e dalla Brexit, qual è il quadro che noi diamo nella nuova mappa dei rischi, motivo per cui ovviamente siamo qui oggi? Beh, si conferma innanzitutto quanto avevamo già rilevato nel 2016, tornano a riaumentare i rischi nei paesi emergenti, o meglio nei paesi emergenti, tornano a riaumentare più dei paesi avanzati. Guardate che non è banale, questo è un qualcosa che non vedevamo dal 2008, il tutto è un indicatore che va da 0 a 100, dove 0 è il rischio minimo, 100 è il rischio massimo. Vedete che nel 2017 gli emergenti sono a 68, sostanzialmente, e il divario tra emergenti avanzati passa da 36 e 39. Sono solo tre punti, torna però a riallargarsi, in alcuni mercati sostanzialmente l'aumento è stato notevole. E guardate, è un aumento generalizzato tra le aree, più due punti in Africa subsahariana, anche in Asia, un'area che generalmente non ci abituava a questi momenti qui, America Latina e Mena. Troviamo una situazione di stazionarietà nei paesi emergenti dell'Europa, forse legati al fatto che la crisi russa si è attenuata, un lieve miglioramento lo abbiamo avuto, ma lo abbiamo avuto da una situazione in cui il peggioramento precedente era stato sostanzialmente e significativamente più intenso. Bene, quali sono i due principali rischi? Quali le implicazioni per le imprese? Da questo quadro più aggregato, allora cerchiamo di vedere per le imprese. Beh, uno dei rischi che in particolare ci portano a quest'aumento del rischio generalizzato, del rischio paese, è il rischio del credito, un rischio di subire un mancato pagamento, soprattutto da una controparte bancaria. I sistemi bancari di diversi paesi emergenti si stanno indebolendo e abbiamo un primo gruppo di paesi emergenti di notevoli dimensioni, Brasile, Turchia e India, in cui come vedete gli indicatori del rischio bancario aumentano. Sia chiara una cosa, non sto dicendo che sono a rischio gli interi sistemi bancari di questi paesi, però è chiaro che nella misura in cui intercettate lettere ovviamente di credito come pagamenti o nella misura in cui le banche sono in difficoltà e non erogano credito alle imprese, questo vuol dire maggiori rischi per le vostre controparti. Passiamo poi a un gruppo di paesi in cui gli aumenti sono sempre significativi ma il rischio è molto più alto. Qui ovviamente il rischio che ci sia pure una sorta di crollo sistemico non è del tutto escluso, parliamo di paesi come l'Angola, l'Egitto, l'Egitto si sta stabilizzando ma vedete che in un rischio da 0 a 100 siamo ovviamente a un livello di 90, fino ad arrivare a paesi come la Nigeria e il Mozambico, nel caso del Mozambico non so se sapete, è un paese ovviamente che ha fatto un default sul suo debito sovrano con un sistema bancario poco sviluppato e molto debole in cui i rischi quindi di mancato pagamento su queste controparti sono altissimi. Sempre parlando però a livello di rischio paese l'altra medaglia del rischio del credito, ossia di un rischio di mancato incasso è un rischio di natura politica e in particolare sul rischio di natura politica sono i rischi alla restrizione del trasferimento alla convertibilità valutari, mi spiego un po' meglio, voi avete la vostra controparte che ha la valuta locale, la deposita pressa la banca locale, non c'è la valuta, il paese per dare la valuta estera incorrerebbe in una crisi valutaria, aspettate un mese, aspettate due, aspettate otto mesi, dieci mesi o venite pagati in ritardo, in alcuni casi non venite pagati. La controparte è affidabile, aveva la valuta locale, non aveva i dollari o gli euro per pagarvi e voi oggettivamente con una bella vagonata di quanzas angolane non ci farete ovviamente granché. Benissimo, detto questo di nuovo questo è il rischio politico che forse è più correlato ai rischi di natura economica e quindi non è un caso che ritroviamo l'Angola come abbiamo visto prima, troviamo l'Egitto ma troviamo anche altri nomi, il rischio del trasferimento è aumentato notevolmente a Cuba al punto che i pagamenti non arrivano data la debolezza diciamo strutturale da questo punto di vista dell'isola. Abbiamo l'Oman, paese ricco ovviamente di petrolio ma con il prezzo ovviamente del petrolio che vediamo qualche fatica nei pagamenti c'è fino ad arrivare al caso del Mozambico in cui abbiamo un aumento di 22 punti. Non solo portatore di cattive notizie, su questo rischio abbiamo anche dei paesi in miglioramento e dei paesi tra l'altro anche rilevanti dal punto di vista del nostro export. L'India, meno 5, l'Argentina, di sicuro il nuovo corso Macri, anche se questo è un rischio che rimane relativamente elevato, ha migliorato le cose, lato cambio, l'Iran, qui c'è l'effetto ovviamente dello scioglimento delle sanzioni anche se ovviamente diversi nodi da sciogliere sul paese rimangono ancora. Allora non sei portatore di cattive notizie, allora ci dai buone notizie per quanto riguarda le aziende del nord-est che sappiamo essere... Sì, la prima notizia che mi sento di dare è su un dato di consuntivo, il dato di consuntivo del 2016, lo abbiamo già visto nel commercio internazionale, è stato un anno di rallentamento che ha penalizzato anche l'export italiano, l'export italiano l'anno scorso è continuato a crescere a un 1-2%, un tasso inferiore a quello che ci attendevamo noi ma non solo noi. Beh, il Triveneto ha cresciuto al 2%, non è tantissimo, molto meglio ovviamente della media nazionale e qui ci riferiamo ovviamente all'aggregazione di Veneto, Trentino ovviamente, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia. Ci sono dei settori che sono stati trainanti in termini di tassi di crescita importante anche se poi come peso sulle tre regioni, sull'export delle tre regioni non rappresentano neanche i raffinati, ma qui c'è un chiaro effetto prezzi, ovviamente che sono stati anche in leggero miglioramento quantomeno rispetto all'anno precedente, i mezzi di trasporto, vi ricordate quanto detto sugli Stati Uniti, sulle grandi ovviamente commesse, la farmaceutica, l'alimentare, i bevande e i prodotti in legno. Vedete, in questi casi abbiamo dei tassi di crescita rispetto alla media generalizzata del 2%, anche di 4 volte superiori, come nel caso della farmaceutica, più 8,1%. Stiamo parlando di una regione dove più di due terzi dell'export è fatto da questi cinque settori, la meccanica strumentale, i macchine e le apparecchie meccaniche ovviamente anche di precisione, la moda, l'altra manifattura, questo è un nome un po' critico, nell'altra manifattura però per dire abbiamo sia i mobili che la gioielleria, immagino il distretto di Vicenza sia ben ovviamente rappresentato qui dentro, i prodotti in metallo, gli alimentari e i bevande. Ecco, senza la pretesa che questo sia, come posso dire, una panoramica esaustiva, abbiamo voluto un po' dire quali sono tra i mercati più importanti per le tre regioni e per questi cinque settori, quelli che ancora sono in difficoltà. La Grecia non ci sorprende, però anche l'Ucraina, la stessa Russia, nella Russia noi osserviamo un miglioramento, però attenzione, questo è un miglioramento lento che viene dopo parecchi anni di contrazione, i rischi di mancato pagamento sono ancora relativamente elevati. Paesi a rischio medio, alcuni che diciamo sono in miglioramento, ma diversi di questi che vanno in peggioramento sostanzialmente da un rischio che era buono, li ritroviamo appunto nella fascia intermedia, di sicuro abbiamo il caso della Turchia con tutte ovviamente le volatilità politiche che osserviamo da qui in avanti con l'esito del referendum, il Brasile che presenterà un miglioramento, ma di nuovo qui come per la Russia mi sento di dire attenzione e cautela, la ripresa non sarà veloce, fino ad arrivare a tutto un set di mercati che vedete è molto composito per la meccanica strumentale, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Cina, Spagna, Giappone, Ungheria, cioè non ve li leggo ovviamente tutti, è inutile fare l'elenco, il messaggio che però vogliamo dare, vedete troviamo paesi che sono molto diversi tra loro, non abbiamo più categorie, non c'è più il dire andiamo negli emergenti o andiamo negli avanzati, c'è un bouquet ovviamente di mercati che sono importanti, indipendentemente siano avanzati o emergenti, senza etichette e che riguardano il singolo settore, riguardano la singola impresa, tutto questo per dire che quindi ci sono degli ecosistemi e qui diciamo li puntualizziamo in termini un pochino più generali anche a livello Italia facendo un po' il punto con quelli che sono i paesi un po' di un coordinamento più ampio, dei paesi su cui decliniamo una strategia a livello Italia, allora vedete ci sono dei mercati a noi noti ma che ancora un potenziale importante ce lo danno, gli Stati Uniti e il Canada, andiamo nei paesi andini, sì indubbiamente, oppure dell'America Latina, il Messico e il Brasile ci dovrebbero stare, però il Cile e il Perù, però è un paese che noi vediamo molto molto bene, in cui il potenziale sta venendo fuori, un paese non facile per le imprese italiane ma se si riesce a entrare in quel mercato, le prospettive per i prossimi anni sono molto interessanti, dei mercati a noi vicini, Repubblica Ceca e Polonia ci hanno dato grandi soddisfazioni in termini di vendita all'estero, fino ad arrivare ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e anche nell'Africa subsahariana, che diciamo è stata una delle aree più colpite dal ribasso dei prezzi delle commodi di un paese come il Kenya, sta mostrando una certa resistenza agli shock, ovviamente Cina e India, Needless to Say, forse Indonesia e Vietnam, magari un po' meno, io ci aggiungerei qui che non è citato nell'elenco anche le Filippine. Allora guardate questa schermata perché la ritroviamo quasi simile anche sul sito di Sace e allora è la mappa dei rischi di Sace che ci dice se io sono un imprenditore dove posso diciamo avere i maggiori vantaggi, in quali settori e per dove stiamo parlando ovviamente di aree geografiche, come funziona? Sì esattamente, questo qui ovviamente è un focus su un paese solo, sul nostro sito tra l'altro c'è anche un'app scaricabile, sui vostri telefonini potete controllare real time per 200 paesi, oltre ovviamente a una mappa colorata che a primo occhio ci dica quanto sui rischi del credito e verso quali controparti, sui rischi politici e verso quali eventi, quali sono i rischi, poi su ogni singolo paese potete fare una selezione e qui noi abbiamo ovviamente scelto il Brasile, vedete ritrovate i nostri indicatori di rischio scorrendola, mancato pagamento di una controparte sovrana 5500, esproprio e volazioni contrattuali e così via per i sei rischi, l'andamento ovviamente dell'export non solo storico ma con le nostre previsioni, per l'export totale potete scegliere ovviamente il vostro settore e il 24esimo mercato di destinazione per l'export italiano, quanto contano i settori più tutta ovviamente una serie di informazioni, riteniamo che anche dal punto di vista informativo conoscere i rischi contribuisca ovviamente al creare, a comprendere, ad avere l'awareness anche verso quelle che sono le opportunità che si affacciano. Allora, mentre tu stavi parlando noi vediamo qui sopra che sono arrivate delle domande, allora chiedo alla Regione un attimo di mostrarmele a schermo intero così le possono leggere tutte e io ovviamente te le porgo, eccolo qui. I paesi BRIC sono ancora un obiettivo dell'export italiano? Debito mondiale XXX mila miliardi di dollari, chi vanta i crediti? Sì, arriviamo in ordine. Beh allora sui BRIC mi sento di dire un sì e un no. Un sì per i singoli paesi, è chiaro che i singoli paesi, quindi la B, la R, la I, la C, alcuni ci mettono la S del Sud Africa, se vogliamo lo possiamo mettere o togliere, sì. Come aggregato a mio avviso, no, nel senso che, cioè come aggregato quello dei BRIC, dal punto di vista economico in senso stretto, un aggregato sempre molto terogeneo, era un asset class, si investiva in degli attivi creata da Goldman Sachs, a un certo punto si è capito che non era nemmeno più un asset class, tant'è che l'indice sui BRIC, la stessa Goldman Sachs, l'ha tolto. Rimane il fatto che è chiaro, stiamo parlando di paesi ovviamente con delle prospettive di crescita importanti, che in diverse fasi storiche presentano, come posso dire, delle prospettive migliori o peggiori, però è chiaro che cominciamo a parlare con economie che hanno un certo interesse, con dei consumatori che iniziano a sofisticarsi, con popolazioni che in due di questi paesi ci fanno due miliardi e mezzo ovviamente di abitanti, tutte cose note e scontate, però, quindi mi sentirei di dire, nei singoli paesi sì, nei BRIC come aggregato no, proprio a richiamare quanto detto prima, non esistono acronimi, non esistono sigle, se non quelli che sono i mercati di opportunità del vostro settore, specifici ovviamente. Seconda domanda, risposta? La seconda ovviamente risposta è il debito mondiale, è chiaro che a fronte di un debito c'è sempre ovviamente chi ha un credito, il problema è come questo ovviamente si distribuisce, c'è una concentrazione ovviamente notevole dal lato di chi ovviamente ha i crediti, il tema è nel caso dei paesi emergenti anche gli stessi ovviamente paesi emergenti, però il problema è che mentre prima erano creditori verso gli avanzati, negli ultimi dieci anni è stato così, ora cominciano a essere creditori verso se stessi, è vero che ovviamente in termini netti e in termini aggregato questo non fa una differenza, in termini della mia controparte sì, perché se la mia controparte è un debitore netto e non è un creditore netto, il rischio di mancato pagamento è elevato, e la probabilità che andando in un emergente oggi rispetto a cinque anni fa, la mia controparte sia un debitore netto piuttosto che un creditore netto è aumentata.